Buongiorno, sono Giovanni Donate Acquaro, ho lavorato in Pisa in Fondazione Monasterio, sono cardiologista e radiologista, ho lavorato nel laboratorio CMR, ho parlato oggi del ruolo del cardiaco-mediato in predica la morte di cardiomiopatia, in comprensione l'ethiologico del cardiaco-arresto e per predica il rischio di cardiaco-mediato in pazienti con un apparentemente normale. Vi vedo che il cardiaco-mediato ha un ruolo incrementale prognostico di altre tecniche di immagini, per evaluiare il rischio di pazienti con cardiomiopatia di cardiomiopatia, pazienti con dilatante cardiomiopatia, aritmogenica e ventica cardiomiopatia. Una delle valori di questa tecnica è la capacità di evaluare il rischio di pazienti con un apparentemente normale, come detecuto da HIKO. In questi pazienti, la monitorazione ci permette di evaluare la presenza di signi di rischio più alto, come fibrosi, farti infiltrata e anche le malmocionali problematiche di due ventricle. In una prossima perspectiva, dovremmo creare un algoritmo diagnostico, includendo la monitorazione per evaluiare questa pazienti. Grazie per l'attenzione.